ciao ragazzi oggi andiamo alla ricerca di schifezze con gastone testone il gioco degli oggetti particolarmente ripugnanti che dobbiamo riuscire a riconoscere perché sono nascosti in questa testa super gigante la testa di gastone è un gioco che io chiamo dai e vai ovvero quei giochi adatti a tutta la famiglia si imparano subito ci si diverte alla grande dentro abbiamo li analizzeremo nel preciso nel dettaglio sulla mia mano questi 15 oggetti disgustosi ma 24 carte perché ne possiamo aggiungere quando un boxiamo gastone praticamente esplode cioè è tipo una di è fatto tipo quelle tiende che tu apri sac che sono subito già pronte la sua faccia è disgustata d'altronde porino ha passato non so quanti mesi dentro la confezione con all'interno delle cose particolarmente schifose guardate i suoi occhi e guardate anche come sono messe le sue ciglia e i suoi capelli d'altronde si può capire guardate apro il sacchetto e dentro c'è veramente l'infinito mondo disgustoso lo vedremo tra un attimo partiamo dalle istruzioni che ci spiegano come funziona il gioco molto semplice metto dentro gli oggetti schifosi tra le narici e oppure le orecchie di gastone devo andare a pescarle sulla base della di quello che mi dice la carta che mi è stata assegnata dal mazziere del gioco qua vedete delle schifezze incredibili dall'occhio arrato al vomito con tanto di pezzettini abbiamo vedremo degli oggetti anche particolarmente viscidi e squisciosi e poi abbiamo 9 carte libere in cui possiamo disegnare un oggetto schifoso poi scrivere il nome e quindi aggiungere degli oggetti particolarmente disgustosi che abbiamo trovato in casa facciamo una carrellata disgustosa e partiamo dall'occhio ragazzi umano e poi il cotton fioc con davide togli la mano che meglio con tanto di cerume sia sopra che sotto la cacca stranamente piatta sotto perché non facciamoci domande forse era appoggiata così semplicemente il formaggio ammuffito il calzino sporco non dico del giorno prima ma forse molto molto prima il ragno sono un po viscidini gli animali devo dire un pelo squisciosetti il più viscidoso è senz'altro ragazzi d'altro nello è proprio anche nella vita tra virgolette lo scarafaggio poi abbiamo il vomito allora io non analizzerei cosa sono queste cosine insite dentro il vomito passiamo invece al cerotto usato che non so voi ragazzi ma io quando vedo per terra un cerotto usato una delle cose più orribili devo dire che vedo che non voglio assolutamente vedere cambio sguardo il cervello anche questo la forma un po come l'occhio di pallina ma cervelloso ovviamente e abbiamo il lombrico questo devo dire mi fa un po di simpatia il lombrico sì in effetti diciamo che il verme insomma fa simpatia ragazzi insomma non è così viscidoso forse uno degli oggetti peggiori sarà perché come papà mi capitano letteralmente in faccia sono i pannolini sporchi e questo particolarmente credo si veda anche un po dall'aspetto particolarmente viscido la strisciata sopra è strisciosissima la lisca di pesce questa è uno di quelli che mi fa simpatia invece poi abbiamo il dente marcio con diciamo quella care che sta partendo e sai che ti farà male poi abbiamo il ratto e beh il ratto non piace devo dire a nessuno questo colore nero e insomma si mette tutto dentro la testa di gastone una volta abbiamo inserito tutti gli oggetti e magari aggiunto anche i nostri si è dato una carta e poi davide forza devi trovare i calzetti sporchi dai 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 puzzolenti e mentre vado alla ricerca ragazzi siamo pronti noi andiamo col gameplay facciamo una sfida con nicolò nicolò ho una novità per la nostra partita oltre ai 15 oggetti che abbiamo già messo qua dentro le schifezze che ci sono qua ho preparato due schifezze nuove ho preparato il cucchiaino leccato schifezza nuova metti pure dentro e ho fatto anche la carta di questa qua il cucchiaino leccato la mettiamo tra le nostre carte e poi ho fatto anche il il fazzoletto sporco metti pure dentro e ho fatto anche la carta del fazzoletto sporco eccola qua quindi chi trova questa carta dovrà cercare il fazzoletto sporco è sporco per finta non l'ho soppiato il naso veramente allora o si no non ho sporgato il naso veramente lo pettiniamo un pochino è tutto scompigliato questo gastone qua le ciglia i capelli lo scompigliamo ma si allora bene è direi abbastanza si facciamo anche nicolò no scherzo io mescolo le carte distribuisco due carte a testa giusto leggiamo la carta dopodiché diciamo assieme cosa c'è nella testa di gastone boh boh e andiamo a cercare con la mano possiamo cercare dentro l'orecchia o dentro la narizia o dentro la narizia sei pronto di chi si siamo pronti allora abbiamo fatto una selezione di carte per fare una sfida un po più veloce per fare il video allora io ho mescolato per vedere carte mi raccomando non bisogna sbirciare dentro non si fa non bisogna far così non bisogna far così hai fatto no una carta di colonna cartone guardare la carta e dopo cosa nella testa gastone vai alla ricerca allora vediamo mai questo non è questo sei tu ciao buongiorno questo sei tu o ecco vera la cacca guarda la lascio tutta a te la cacca allora no grazie guarda mi basta l'odore allora sei pronto una cacca via guarda ferma lì la cacca lasciate ferma quella cacca bene abbiamo un'altra carta per nicolò scegli pure un'altra carta per papà via allora alla ricerca questa è una cosa che avevo disegnato io devo riconoscerla oddio dov'è dov'è sei tu ci stiamo ostacolando eccolo il cucchiaino leccato si è mio tu cosa devi cercare il cotton fiocca ora mi stiamo pronti tu gastone sei pronto sì ok vai o guarda bene la carta vai questa cosa si capisce subito questa cosa con le tue mani non si capisce bene subito però vediamo vediamo eccoci eccolo l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato dammelo dai me l'hai preso tu no mi hai preso la cosa che stavo prendendo io vai si il pannolino sporco una delle cose più sporche stavi cercando l'occhio tu allora mi porto a casa il pannolino e l'occhio lo rimettiamo qua in mezzo tu ne hai due tu hai una schifezza una allora sei pronto nuove carte nuove schifezze vai una schifezza per te una schifezza per me diamo un'occhiata via cosa c'è nella testa di gastone hai ritrovato l'occhio vedo io invece sto cercando il dente marcio sono due cose abbastanza simili no no allora no no ma c'è il dente marcio c'è il dente marcio no 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 io ce l'ho quasi allora niente devo rimetterlo dentro perché l'hai trovato tu bene siamo due pari allora rimetto dentro il mio dente marcio sei pronta alla prossima sfida vai carta schifezza per nicolò carta schifezza per il papà questa è una cosa che ti piace tanto allora vediamo se la trovo hai già trovato hai fatto il tuo sporco io devo cercare il vomito niente lo rimetto in mezzo attenzione mancano sempre meno carte tu ne hai tre io ne hai due allora è pronto allora lo sciccheriamo così lo spostiamo vai carta di colore e carta papà via ok questo so dove trovarlo vai che lo trovo vai no non è lui assomiglia assomiglia dente marcio sì dente marcio tu cosa devi cercare il cotton fios pop è caduto un occhio attento la testa eh c'è un occhio per terra ecco una paglia di pimpò mancano solo tre carte scegli una carta una per me via attacco andiamo a cercare quella carta allora questo non è questo non è questo non è no no che cos'è dov'è 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 che cos'è è una lunga ricerca è una lunga ricerca non lo trovo tu lo trovi no non lo trovo non lo trovo non lo trovo allora vediamo hai trovato cos'è il calzino il calzino sporco è quello di ieri ma il tuo è il mio il tuo è proprio un puzzone si io devo trovare il vomito ma questo vomito trovo più la tua mano non sono riuscito a trovarlo bene ultima tua carta sei pronto attenzione vai cosa aveva pescato vediamo hai già trovato il vomito e come hai fatto così veloce bravissimo a questo punto manca l'ultima carta ragazzi è il cotton fioc chi la trova vince il cotton fioc via cosa c'è nella testa di gastone dov'è quando mancano poche cose c'è più difficile da trovare no mica l'avevi trovato mica l'avevi trovato cosa stai tirando fuori bravo nicchi bravissimo allora quante schifezzi hai tu una due tre quattro devo toccare tutte no una due tre quattro cinque sei io ne ho tre hai vinto amore bravo io ho solamente cucchiaino lecca vuoi fare cambio ti do un pannolino e tu mi regali una cacca non ti va come premio cosa ho vinto ho vinto un bellissimo panino a base di pannolino sporco dotato anche di cacca e con sopra un po di vomito giustamente sì così ancora più saporito siccome sono papà molto generoso vuoi assaggio amore mio no non vuole messaggio saluti i bambini qualcosa che ho sporco e ma sei bravissimo ma sento che è sporco però ciao bimbi questo gioco ci è piaciuto è pieno di schifezze vero se questo video vi è piaciuto metteteci un bel pollicione ma bello sporco vero ma cosa fai che sia bello sporco esatto mettete il pollicione prima di fare la doccia grande idea e noi ci vediamo al prossimo video un saluto nicolò ciao no sei uscito dalla telecamera vieni di qua ciao 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 puoi pulirti le orecchie nooo io credo invece posso pulirmi il naso io ok intanto l'ho vinto io questo vuoi metterti il pannolino no dai facciamo nooo facciamo così questo qua lo portiamo a Matilde quando deve cambiare il pannolino le portiamo questo ma ti mettiamo in più sei proprio sicuro è un po' marcio puoi mettere un occhio falso nooo bruttissimo quell'occhio vuoi assaggiare un po' di formaggio non è niente male oppure se vuoi in alternativa a formaggio puoi assaggiare un po' di vomito lalisco di pescola si sai nooo non voglio assaggiarla Senti ah guarda lì bisogna mettere un cerottino o un cerotto sporco ha 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 Grazie a tutti.